Aspetta! Me ne occupo io. Merda! Troppo tardi! Cazzo, guarda. Li usano finché non si rompono e poi li buttano via. Allora! La gente sta male, cazzo Le relazioni non interessano più Tutti vogliono un androide Ti fanno da mangiare Gli scopi quando ne hai voglia Senza preoccuparti delle conseguenze Peccato che poi finiremo estenti Perché tutti compreranno un pezzo di plastica Invece chiamare un es... Non ti muovere! 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 Ehi, stanno scappando! 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 Ehi, stanno scappando!